Oggi voglio parlarvi di due sillogi poetiche, due raccolte di poesie molto particolari, però prima di parlarvi di queste sillogi poetiche voglio parlarvi anche di una nuova traduzione dei deliti della Rimorgue di Edgar Allan Poe. Ebbene sì, oggi vi parlo di Aldo Luigi Mancusi, ma lo facciamo subito dopo la sigla. Buongiorno a tutti, bentornati su Albero del Mistero. Innanzitutto direi di scoprire chi è Aldo Luigi Mancusi. Ha un canale YouTube, si intitola Libri di Sangue, si dedica a varie cose, non soltanto alla letteratura e anche alla poesia, che è cosa abbastanza rara, bisogna dire ormai, in Italia, ma si dedica anche all'esoterismo. Vi avviso, ha a volte un modo urticante di dire le cose, un modo che potrebbe apparire fastidioso a certuni. Certi punti di vista magari li posso anche criticare, certi singoli elementi, però sicuramente offre sempre degli spunti che non vanno presi sotto gamba perché Aldo Luigi Mancusi è una persona intelligente. Ma dunque veniamo allora alle sue sillogi poetiche, che sono gli Urizen, il cammino dell'immortale, una raccolta di poesie ispirato, possiamo dire così, a William Blake o comunque collegata a William Blake, e poi Olam Hatou, Memorie di un suicida, che è la sua ultima sillogia poetica. Però prima di parlarvi di queste due sillogi voglio parlarvi della sua traduzione ai delitti della Rimorgue, che è uscita per Cut Up Edizioni. Cut Up Edizioni fa sempre questi libretti molto belli, molto ben fatti, davvero molto ben fatti, che vale la pena di acquistare, anche se magari potrebbero costare, potrebbero avere un prezzo un pochino elevato, però bisogna dire che anche, che ne so, edizioni SE oppure ad Elfi hanno costi elevati e talvolta non si trovano i contenuti interessanti che si possono trovare invece con edizioni, editori più piccoli tipo Cut Up. I delitti della Rimorgue è stato tradotto, direi, in maniera quasi perfetta, dai, non esageriamo, non arriviamo proprio al 100%, ma 99% sicuramente. Cosa significa? Cosa intendo dire quando dico che è stato tradotto in maniera quasi perfetta? Che Mancusi ha rispettato il linguaggio di Edgar Allan Poe, un traduttore meno esperto o meno capace, perché non so quale sia l'esperienza di Mancusi effettivamente nel campo della traduzione, comunque diciamo un traduttore meno capace, con minore attitudine, avrebbe di certo trasformato il periodare di Edgar Allan Poe, lo avrebbe semplificato, magari avrebbe voluto renderlo più adeguato ai tempi moderni. Mancusi è riuscito a renderla con grande eleganza, con assoluto rispetto e dando proprio il senso di ciò che Edgar Allan Poe voleva trasmettere attraverso questa sua scrittura progressiva. Ecco, la copertina forse di questa edizione poteva anche essere diversa, pur essendo una bella copertina, secondo me, si ispira più a Edgar Allan Poe che al racconto stesso, ma comunque direi che è una buona edizione e un'ottima traduzione. La poesia è quanto di più difficile ci sia, penso a livello di scrittura, ancora più difficile del romanzo, secondo me. Perché? Perché al di là del fatto che oggi la poesia viene molto fraintesa e quindi non viene capita fino in fondo, o meglio, la gente non sa effettivamente che cosa sia poesia, non sa distinguere tra un linguaggio poetico e una prosa poetica, oppure addirittura non sa riconoscere la poesia quando ce l'ha davanti agli occhi o scambia per poesia ciò che non lo è affatto. La poesia oggi è prevalentemente un qualcosa di banale, di estremamente povero e che non riesce a farti fare, a te lettore, il salto verso quel mondo che in teoria dovrebbe aprire. Ebbene Aldo Luigi Mancusi con Iurizen e con Olam Hatou c'è riuscito perfettamente, devo dire assolutamente in maniera perfetta. Qual è la differenza tra queste due silogi? Allora Iurizen, il cammino dell'immortale, potremmo dire che è un cammino progressivo dell'essere umano verso l'essere. È un tentativo, un'indicazione, anzi potremmo chiamarla più precisamente un'indicazione per superare quella soglia che ai nostri occhi divide sempre l'essere, l'eterno dalla nostra quotidianità, dall'illusione che la quotidianità sia l'unico panorama, l'unico paesaggio all'interno del quale possiamo vivere. E lo fa con una serie di poesie che sono, io penso, davvero molto ispirate. Non vanno prese singolarmente. Questa siloge, come anche l'altra Olam Hatou, vanno lette una dopo l'altra, tutte insieme. Quindi io ho impiegato un pomeriggio, due-tre ore, per leggere entrambe le sillogi. Ma l'ho fatto appositamente, preparandomi prima con la lettura dei testi che accompagnano le sillogi. Perché? Perché in Iurizen c'è una prefazione di Sandra Besseril, che ho scoperto essere una delle più importanti autrici horror messicane, mi sembra, brasiliano o messicana, adesso non vorrei sbagliarmi, messicana, mi pare. Poi c'è una postfazione di Ilaria Palomba. E leggere questi due paratesti mi ha aiutato ad entrare all'interno di questa silloge, che effettivamente, effettivamente ha risuonato dentro di me, soprattutto anche per quella ricerca filosofica che io sto facendo ormai da anni, che va proprio nella direzione del rinvenimento dell'essere all'interno dell'esistenza. Ho trovato addirittura dei riferimenti parmenidei, potrei dire, e quindi alla distinzione tra essere e non essere. Non so se sia stata una mia, diciamo, elucubrazione mentale, eppure credo che questi versi siano ispirati esattamente per questo motivo, perché c'è effettivamente qualcos'altro che parla al di là della volontà dell'autore in quanto autore. E infatti la postfazione inizia proprio dicendo una silloge dettata dal divino, quella di Aldo Luigi Mancusi, ispirata e sapiente, ma soprattutto mistica. Kabbalah e William Blake, visioni, leggi, divine incarnazioni, carte. Non deve sembrare qualcosa di esagerato quello che sto dicendo, perché in realtà una delle funzioni della poesia dovrebbe essere esattamente questa, quella di indicare ciò che c'è oltre il velo dell'illusione. Io ne sono sempre stato convinto. Quindi allora arriviamo anche alla seconda silloge, cioè Olam Hatou, Memorie di un suicida, che è molto diversa rispetto a questa, pur essendo, secondo me, sulla, sullo stesso tracciato di un percorso esistenziale. In che senso? Nel senso che questa silloge mi ha colpito forse ancora più della prima, perché in realtà è molto, molto oscura. Potremmo veramente definirli poesie dark, versi dark. Perché? Perché è come se fossero i pensieri, le emozioni, le sensazioni, i sentimenti, le situazioni esistenziali di qualcuno che sta passando attraverso l'inferno in terra. Però mentre leggevo queste poesie, a me continuava a venire in mente un momento particolare del libro di Giobbe, dell'Antico Testamento. Non so se avete presente qual è il libro di Giobbe. Servo di Dio che non è mai venuto meno al suo amore, nei confronti di Dio, alla sua, alla sua fede, nei confronti di Dio. E allora Satana, che è un angelo della corte di Dio, come viene detto all'inizio di quel libro, e questo è un aspetto molto interessante che mi invito ad approfondire, perché non ci si fa mai particolarmente caso, ma Satana è un angelo della corte di Dio, propone a Dio di lasciargli campo libero affinché devasti la sua esistenza per dimostrare a Dio che Giobbe in realtà non gli sarebbe più così tanto fedele qualora si trovasse nelle situazioni esistenziali più, per l'appunto, devastate, più tremende, più terribili. E allora Dio gli concede questa possibilità. E quindi Satana riempie la vita di Giobbe di tutte le tragedie possibili. Perde qualunque cosa e qualsiasi cosa. E c'è un momento, un primo momento in cui Giobbe continua a rivelarsi fedele, ma ad un certo punto, soprattutto dopo, soprattutto dopo che tre amici sono andati da lui per cercare di fargli vedere gli aspetti positivi nella tragedia, soprattutto dopo ecco che Giobbe arriva a rinnegare Dio gli aspetti positivi che prima invece in qualche modo si sforzava di vedere. Ecco ovviamente c'è un prosieguo, perché ad un certo punto quando sarà proprio al colmo della bassezza, Dio si rivelerà a Giobbe perché Giobbe lo cercherà comunque e allora Dio gli si rivelerà, sottolineando il fatto che adesso Giobbe lo conosce di persona, non prima, perché lo ha cercato anche nell'indigenza più assoluta. Ecco questa raccolta di poesie Olam Hatou è come se fosse situata nel momento immediatamente precedente, qui è proprio il colmo della disperazione. Tant'è vero che anche i paratesti di questo libro, che sono importanti, perché? Perché la prefazione è niente meno che di Dario Evola e poi una postfazione di Alessandro Manzetti, niente meno che di Alessandro Manzetti, che mette per l'appunto in luce tutti gli aspetti infernali di queste poesie. Una caratteristica che accomuna sia Yurizen che Olam Hatou è il fatto che alla fine di queste sillogi ci sono quattro poesie che sono dedicate alle carte dei Tarocchi. Ecco, devo dire che all'interno di queste sillogi, queste quattro poesie finali, sia nella prima che nella seconda, mi sono sembrate le cose più distaccate, più separate, delle quali io non ho capito esattamente il senso. E allora in un primo momento ero quasi tentato di dire queste quattro poesie finali non mi convincono perché non ne capisco il senso. Eppure credo, credo che anche se non ne capisco il senso, siano in qualche modo effettivamente centrate. Voglio leggervi quanto diceva Arnold Schoenberg in riferimento a Gustav Mahler in questo libretto pubblicato da SE. Noi siamo meschini. Per il semplice fatto che non sappiamo vedere ciò che è grande nella sua totalità, prestiamo attenzione soltanto ai particolari, per cui, a punizione del nostro presuntuoso comportamento, sbagliamo anche in questo. Abbiamo sempre torto, comunque la si metta. Ogni volta che l'intelletto umano ha cercato di scoprire le leggi che governano le opere divine, ha scoperto soltanto le leggi che caratterizzano e distinguono la nostra capacità di conoscere attraverso il pensiero e la fantasia. Ci muoviamo in un circolo chiuso, vediamo soltanto noi stessi, o al massimo, il nostro stesso essere, tutte le volte che ci illudiamo di aver descritto l'essenza di qualcosa esistente al di fuori di noi. E di queste leggi, che nel migliore dei casi sono quelle della nostra capacità intellettiva, noi ne facciamo un metro per giudicare l'opera del creatore. In base a queste leggi giudichiamo l'opera del grande artista. Forse mai come oggi è stato difficile dare a un artista ciò che gli è dovuto. Forse mai più di oggi sopravvalutazioni e sottovalutazioni sono dipese dal farsi commerciale dell'arte. Ed è un po' proprio questo il problema secondo me, cioè che noi ormai con la commercializzazione dell'arte ci stiamo abituando all'idea che forse possiamo giudicare qualsiasi cosa, mentre invece semplicemente parliamo di ciò che è abbastanza vicino al nostro gusto mediocre, con la conseguenza che noi crediamo di poter dire una parola sensata su tutto. E invece forse dovremmo fermarci di fronte a ciò che è sicuramente ispirato, a ciò che si stacca sicuramente dal resto della massa. E devo dire che Yurizen e Olam Hatou si staccano sicuramente dalla massa mediocre della poesia. Io ero partito leggendo queste poesie con la sfida in qualche modo che era stata lanciata da Aldo Luigi Mancusi in uno dei suoi video all'interno dei quali diceva, si diceva uno dei poeti migliori. Diciamo, mettiamola così, non dico che mi abbia convinto al cento per cento, ma ho fatto davvero un paio di passi avanti verso questa convinzione. Giudicare la poesia è molto difficile, la poesia italiana è anche molto sconosciuta in realtà, quella proprio contemporanea, quindi bisogna andare sempre alla ricerca. Perciò ecco, questo era quanto avevo da dirvi di Aldo Luigi Mancusi e dei suoi testi. Io vi consiglio di leggerle sicuramente senza pregiudizi, senza precomprensioni, ma lasciandovi andare davvero ai suoi versi e ai suoi contenuti, perché tra l'altro sono anche, devo dire, molto musicali. C'è proprio un'attenzione alla musicalità del verso, all'uso delle parole che in certi momenti potrebbero sembrare strani, eppure se poi vi soffermate e ve li recitate a voce alta, vedrete che effettivamente hanno il loro senso preciso, hanno la loro precisa musicalità, quindi non è assolutamente nulla di irriflesso, ma è molto di ispirato. Ecco, questo era quanto avevo da dirvi sui testi di Mancusi, quindi spero che li leggiate. Se avete anche voi dei suggerimenti da darmi per altri testi poetici da leggere e da analizzare, lo farò sicuramente perché la poesia è uno dei canali che vorrei tenere aperti su Albero del Mistero, uno degli aspetti a cui dedicarmi a partire da quest'anno, insomma dal 2024 per l'appunto. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, quindi se lo è stato mettete il mi piace, vi chiedo di iscrivervi, a voi non costa nulla, ma mi aiutate effettivamente a far arrivare gli iscritti di questo canale alla soglia fatidica dei mille iscritti e magari anche a superarla entro l'anno solare, quindi aiutatemi in questa impresa. Noi ci rivediamo al nostro prossimo video. Ciao a tutti!